L'area archeologica della Badia I resti del Monastero di Santa Maria di Monte Scudaio Le indagini archeologiche e le strutture monastiche Tra 2005 e 2012 l'Università di Pisa, con il sostegno del Comune di Monte Scudaio e su concessione del Ministero della Cultura, ha condotto una serie di ricerche archeologiche laddove era localizzato il toponimo Badia. Sono state riportate alla luce le strutture del Monastero Femminile di Santa Maria, fondato dai Conti Gerardeschi nel 1091, i cui resti sono ora visibili nell'omonima area archeologica. La chiesa, connotata da due fasi costruttive, di cui un'anteriore al Cenobbio risalente al X secolo ed una romanica di XII secolo. I vani del Chiostro, edificati a sud della chiesa tra XII e XIII secolo, il meridionale dei quali mostra una porta verso l'esterno, poi murata. Il Pozzo, posto al centro del Chiostro, e i resti di alcune canalizzazioni. Gli scavi hanno riscoperto le murature del piano terreno, dove è possibile che si svolgessero le attività comuni delle religiose. Le cellette private dovevano trovarsi invece al piano superiore, che non è sopravvissuto al terremoto del 1846. Le murature del Cenobbio Gli studi archeologici hanno consentito di ricostruire le varie fasi edilizie del monastero, ed ipotizzare l'impegno economico servito per ciascuna di esse. Subito dopo la fondazione del Cenobbio, nel corso del XII secolo, fu ampliata la chiesa preesistente, impiegando belle pietre squadrate, messe in opera secondo modelli costruttivi tipici del romanico pisano, per mano di lavoratori provenienti dal medesimo ambito cittadino. Nel secolo successivo fu completato il circuito del Chiostro con l'utilizzo di tecniche tardo-romaniche, meno ricercate e costose. Gli ultimi interventi, come la chiusura del corridoio cimiteriale tra chiesa e chiostro, furono realizzati tra 3 e 400, con tecniche edilizie più approssimative e con materiali di reimpiego, segno di una tendenza al risparmio. L'area cimiteriale intorno alla chiesa Tutto intorno alla chiesa, gli scavi hanno scoperto numerose sepolture databili tra XI e XVI secolo, i cui resti hanno restituito il quadro della popolazione residente ed i rituali funerari dell'epoca. Sono state trovate anche tombe di pellegrini, giunti attraverso la strada che fiancheggiava il monastero, salendo verso il castello, testimoniando un flusso costante di persone di beni nella zona, fin dal XII secolo. Nell'area archeologica sono visibili le strutture tombali in muratura di diverse epoche, anche se la maggior parte dei defunti erano sepolti in fosse scavate nel terreno. In base ai dati raccolti, il complesso monastico e l'area cimiteriale furono abbandonati rispettivamente tra lo scorcio del XV e la fine del XVI secolo. Grazie a tutti.